buongiorno amici di pillole sono le sette di mattina stiamo andando al mare come penso mezza lombardia tutti in liguria in realtà quelli erano video vecchi perché oggi la situazione è questa a milano stavano 33 gradi ci sono gli occhiali da sole ma anche il sole una focaccina vabbè ragazzi eventualmente video l'anno scorso le ho fatti continuiamo a vedere i video l'anno scorso facciamo finta di essere stati al mare anche questo weekend questo tempo ci consoliamo con un po di focaccia genovese almeno abbiamo fatto questi chilometri per un po di focaccia e noi stamattina abbiamo visto le previsioni dal tempo della puglia da ma sole che avevamo sbagliato avevamo presso l'uscita per genoa allora che si fa si torna a milano sta firmando un libro e la chiesa la dedica a te capisci la poesia noi comunque non mogliamo oggi un bagno ce lo vogliamo fare siamo tornati a milano ci sono i famosissimi bagni misteriosi e quindi eccoci qua fietta e si va in piscina a tuffarsi parlavamo del tuo fisico bestiale come sto bene una bocca interpretabile beh adesso visto che siamo in forma andiamo a mangiare far maratonda